Fialdini quanti anni avevi il 17 aprile del 1989 facile 10 10 e sai quanti ne aveva Steve McQueen nel 58 fammi indovinare era del 30 quindi 28 e sai perché ti dico Steve McQueen e ti dico dell'89 non ci posso proprio arrivare ma quando ci può arrivare dai Blob nasceva Blob il 17 aprile dell'89 nasceva Blob che poi non si è mai capito cos'è Blob è un programma Blob prende le mosse da quel film di Steve McQueen che c'è questa massa gelatinosa che praticamente invade tutto è stata un discorso Blob non è un programma non c'era Final Cut non c'era Final Cut sai che cos'è Final Cut non c'era l'Avid sai che cos'è l'Avid e facevano tutto quanto proprio in maniera artigianale in maniera così un lavoro di montaggio che non finisce mai si può dire una cosa ha cambiato la televisione secondo te ha più anni Blob Osvaldo bevi l'acqua sicuramente tu comunque auguri a Blob appunto la rifacciamo grazie e questa poi la mandano su Blob